Credete nei miracoli? Si domandava il noto telecronista Federico Buff al termine di una partita NBA nel lontano 2004, quando McGredy siglò 13 punti in 35 secondi. Una di quelle partite passate alla storia come quella vissuta ieri sera all'interno della Vitrifrego Arena. Un impeccabile VL batte Milano al termine di un match equilibrato, rinviando il discorso ad una gara 4, insperata da molti alla vigilia di questi play-off. 88-83. Il punteggio illuminato sul maxischermo allo scadere dei 40 minuti che ha fatto esplodere di gioia ed entusiasmo i 6.100 spettatori accorsi all'arena, con tanto di invasione finale di campo. Dopo le due sconfitte subite al Mediolanum Forum, i ragazzi di Repesia sin dalla palla 2 sono partiti con l'atteggiamento giusto. Nonostante Milano provasse ad allungare con la forza di Melli l'esperienza di Schiltz, la carpegna prosciutto è rimasta sempre compatta, restando incollata agli uomini di Messina. All'intervallo ospiti avanti 42-36. Nella ripresa la storia è la stessa, VL che per questi play-off si affida ancora una volta Totè, che non tradisce continuando a dominare sotto canestro. Per lui 16 punti alla fine del match. I 13 di Tambone, i 9 di Delfino, i rimbalzi di Dei e i 10 punti di Rachman, arrivati tutti a pochi minuti dalla sirena finale, hanno regalato a Pesaro la possibilità di giocarsi gara 4 di nuovo davanti ai propri tifosi. Di fondamentale spinta e calore per una quanto mai in attesa gara 5. La Vitrifrigo Arena è pronta a ritingersi di bianco-rosso sabato 20 maggio alle ore 20.30. I biglietti sono già acquistabili su Viva Ticket da questa mattina a ore 11.